Ecco, tipo... ...chè che stiamo in un'eserrola di oggi Tu scrivi di me Eh, ma io non ti dito, ma fanno C'è un altro epponore ... ... ... Well, that's alright, mama That's alright for you That's alright, mama Any way you wanna do Well, that's alright Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada